Ciao, benvenuti su Delta Gaming, qui è Delta89 e oggi siamo pronti per aprire un po' di schegge blu. Come anticipato settimana scorsa, non ho avuto molto tempo questa settimana di dedicare al raid e si può vedere benissimo dall'energia che mi è rimasta, però adesso sono tornato dalle ferie e sono pronto per riprendere attivamente il gioco e quindi come prima cosa oggi, l'ultimo giorno dell'evento 2x delle schegge antiche, quindi ne abbiamo 74 da aprire, le aprirò tutte 74, abbiamo abbastanza sposto in inventario, quindi quello non dovrebbe essere un problema, vediamo che campioni troveremo e poi in base a quello deciderò eventualmente se utilizzare un po' di gem per aprire ulteriori schegge. Quindi, cominciamo, prima 4 e poi colpi di 10, vediamo un po', primo campione, andiamo. Nulla di che, ovviamente priorità sono epici e leggendari, in particolare per me Shadowkin e Lizardman, che sono le uniche due fazioni che mi manca di chiudere, quindi trovare i campioni di quelle due fazioni sicuramente mi interessa più che tutto il resto. Anche qui, ancora niente, ultima singola, altra blu, 4 blu, incredibile, è attivo questo 2x? Non lo so. Ok, cominciamo adesso 10 alla volta, vediamo un po' chi troveremo. blu, 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 eh, viola, no, non mi serve, necrohunter, non ci spendo molto tempo. Uh, leggendario? Scartosis, altro leggendario? Ah, allora, non necessariamente male questi due campioni, vediamoli rapidamente. Scartosis, buon supporto, diciamo non un campione da endgame, però sicuramente un buon supporto. nota principale di Scartosis è l'aura, che ci dà un 33% di incremento della velocità nei dungeon, ovviamente, sono nei dungeon, però un 33% è il massimo che possiamo ottenere come aura di velocità, quindi sicuramente se abbiamo uno slot disponibile per lui e vogliamo sostituire il nostro attuale leader per i dungeon, lui potrebbe essere una soluzione molto interessante. Probabilmente io preferirei comunque utilizzare Lissandra, che sicuramente è vero, dà un'aura minore, 24%, però con le sue abilità permette di aumentare la barra turno, diminuire il turno avversario, e quindi alla fine, in generale, ci permette di effettuare più turni. velocemente andiamo a vedere le sue abilità, la sua A1 attacca tutti i nemici, il che può essere utile se lo mettiamo in un stun set, per esempio, ha un 30% di possibilità di rubare un buff a caso da ogni nemico, ma A1 discreta, A2, piazza 50% incremento attacco e 30% incremento probabilità di critico, tutti gli alleati per due turni, con quattro turni di cooldown, quindi in realtà rimarremo scoperti un turno. Se fosse stato per tre turni, con quattro turni di cooldown, riducibile a tre, o eventualmente due su due, sarebbe stato ottimo, perché avrebbe garantito incremento attacco e incremento probabilità di critico al 100% del tempo. Qui ci lascia comunque scoperti un turno, quindi magari non vogliamo costruire il nostro team con un 30% in meno di probabilità di critico, quindi al 70%, perché magari non vogliamo rischiare che per un turno rimaniamo scoperti, quindi probabilmente non ci garantisce un'affidabilità per quanto riguarda effettuare colpi critici. Infine, la sua A3, che è stata recentemente buffata, prima era su 7 turni riducibile a 5, adesso è su 6 turni riducibile a 4, quindi diventa un pochino più utilizzabile. Questa abilità rimuove i debuff da tutti gli alleati e poi cura tutti gli alleati e aumenta la loro barra turno. è importante da notare che prima rimuove i debuff e poi cura, quindi se qualcuno ha il Reduction, questo verrà rimosso prima in modo che la cura diventi efficace. La quantità di cura che riceverà aumenta a seconda del numero di debuff che vengono rimossi, quindi ovviamente volete avere... in generale non volete avere debuff, però quando giocate questa abilità più ne avete e più vi garantirà una cura maggiore. E ovviamente stesso discorso per la barra di torno. Diciamo che è un discreto campione di supporto, però io probabilmente non ci investirò, almeno non a breve. Andiamo a vedere invece Cantra, che non è male come campione, diciamo la sua utilità credo principalmente possa essere nell'Hidra o forse anche un pochino con il Ragno. Andiamo a vedere velocemente le sue abilità. La sua A1, che sicuramente non è l'abilità che ci interessa di tutto il suo kit, attacca un nemico due volte e ogni colpo ha la possibilità di rubare un buff a caso dal bersaglio. Nulla di che è come A1. Andiamo invece a vedere la sua A2 e la sua passiva, che sono le sue abilità più importanti. Da notare che Cantra ha solo due abilità attive, il che vuol dire che se volessimo equipaggiarla con un set Reflex, questo sarebbe molto efficace perché andrebbe su una battaglia che dura vari turni, come per esempio possiamo pensare le battaglie del Lidra che durano molti turni, potrà incrementare la frequenza con cui andremo a giocare la sua A2. Quindi cosa fa questa abilità? Attacca tutti i nemici tre volte, non sono tanti i campioni che attaccano tutti tre volte, per esempio ogni volta in mente i Countess Leaks. I moltiplicatori di Cantra non sono molto elevati, quindi non ci aspettiamo un danno altissimo, però ogni colpo ha la possibilità del 50, incrementabile al 75%, di piazzare uno dei seguenti debuff. Quindi li potremo piazzare, se siamo fortunati, fino a 3 per ogni turno, su ogni nemico ovviamente. E questi debuff sono blocco debuff, decremento attacco, decremento velocità, indebolimento, decremento precisione e riduzione cura. Per tutti questi ovviamente è la versione migliore e sono tutti quanti buff molto utili per l'Hidra. Forse l'ultimo non tanto, ma gli altri sicuramente lo sono. In particolare questa abilità si accoppia benissimo con la sua passiva, in quanto conferisce determinati effetti in funzione della quantità di debuff presenti sugli avversari. Quindi riduce la precisione di ogni nemico in base a quanti debuff lui ha, quindi la precisione ridotta di 10 per ogni debuff. Adesso non sarà tantissimo come riduzione, ma è sempre un qualcosa di utile. In più, questo campione riceve un 4% di danno in meno per ogni debuff presente sugli attaccanti. Quindi per esempio, se siamo nell'Hidra, questo ci permette di mitigare molto il danno di Kanta, soprattutto perché anche con gli altri campioni cercheremo di mettere molti debuff sul bersaglio, soprattutto se andiamo per esempio a copiarla in un team con campioni che per esempio mettono veleno e quindi potremo averne molti distribuiti sulle teste dell'Hidra. Inoltre, oltre che ridurre il danno, va anche a curarsi. Quindi ogni volta che un debuff termina su un nemico, lei guadagna 1250 HP. Quindi, se pensiamo alla quantità di debuff che potremo avere sulle teste dell'Hidra per esempio o sui ragnetti contro il ragno, questo ci fa capire che la cura diventa davvero grande e permetterà a Kanta di sopravvivere tantissimi turni. Inoltre, ha un 75% non incrementabile di possibilità di piazzare provocazione per un turno su nemici che hanno 5 più debuff all'inizio del suo turno. Quindi all'inizio del turno di Kanta, se c'è un nemico con più di 5 debuff, adesso lei ne mette già 3. Quindi se avete qualcun altro che mette qualche altro debuff, soprattutto uno che mette veleno, quindi ne potete mettere più di uno, ecco là che lei avrà una possibilità di piazzare provocazione che sarà un ulteriore debuff che potrete aggiungere oltre tutti gli altri che lei già è in grado di mettere con la sua A2. Infine, questa è una cosa estremamente utile, questo campione può piazzare i debuff anche sui colpi deboli, quindi non vi interessa dell'affinità, non vi interessa se andrete contro un'affinità forte, lei comunque sarà sempre in grado di piazzare i suoi debuff, quindi l'unica cosa che conterà sarà la resistenza dell'avversario, che ovviamente potrà resistere, e il fatto che lei non ha il 100%, ma sull'ed 75%, sia su questo provoke che su tutti questi buff. Adesso, se avesse avuto 100%, non credo che sarebbe stata una follia, però Raid non ha voluto rendere questo campione forte a quel punto, diciamo. Però sicuramente, già ora come ora, permette una discreta utilità, soprattutto penso nell'Hidra. Nel Ragno sì, grazie ai Ragnetti potrebbe riuscire a sopravvivere a lungo, però non la vedo come un componente fondamentale per un team, non ce la metterei nel mio team, ecco del Ragno, nell'Hidra potrei farlo. Infine andiamo a vedere la sua Aura, incrementa la precisione di tutti i compagni in tutte le battaglie di 60%. Non è un'Aura che mi fa impazzire, sinceramente. Diciamo, la precisione è abbastanza facile e incrementarla sulla propria squadra. Quindi, come ho detto, un campione che sicuramente ha una sua utilità in un'area del gioco, però per il momento anche questo non credo che ci investirò molto. Andiamo avanti con altri 10. Attacca un nemico, ha un 35% di piazzare 100% di redaction per due turni, nulla di che come A1, invece inizia a migliorare con l'A2 e con l'A3, piazza 60%, incrementa difesa su tutti gli alleati e blocco debuff su tutti gli alleati, questo per un turno, però tutto questo su tre turni. Quindi comunque ci permette di avere una buona protezione su tutto il team. E infine la terza abilità, attacca tutti i nemici, ha un 75%, incrementabile al 100% di piazzare, riduce attacco su tutti i nemici. E poi riduce gli HP massimi di ogni bersaglio del 30% del danno inflitto. Adesso Grizzlyard potrebbe avere una sua utilità contro il Clamboss, per mettere riduce attacco sul Clamboss e per mettere incrementa difesa e blocco debuff per difendersi dallo stun. Quindi alcuni lo utilizzano più che altro per i giocatori un po' più agli inizi del gioco, che hanno una scelta meno ampia di campioni e che non hanno un team unkillable sul Clamboss, mentre un'altra area del gioco in cui questo campione può essere molto utile è nella fazione. Atur, non ci perdo tempo. Altri 10. Uh, terzo leggendario! Ignatius! Molto buono Ignatius! Ovviamente ho completato la fazione, quindi ormai non mi serve più, mi avrebbe fatto molto comodo qualche settimana fa, però va bene lo stesso. Allora, andiamo a vedere Ignatius. Eccolo qui. Un ogre. Allora, attacca un nemico e ha un 15% di probabilità aumentabile al 25, nulla di che però è sempre buono di piazzare stun per un turno. Nulla di che è come a uno, sinceramente. Ma non è questo il suo forte. La 2. Eccola qua. Attacca tutti i nemici e ha un 50% incrementabile a 75% di piazzare provocazione per un turno. Ok, quindi con la 1 potremo piazzare stun, con la 2 potremo piazzare provocazione. E infine con la 3. Attacca tutti i nemici e ha un 75% incrementabile al 100%, questa volta di piazzare brucia HP per due turni. E questa è una cosa interessantissima, this debuff non può essere resistito, quindi non ci serve precisione per piazzare questo. Certo, ci serve precisione per piazzare gli altri due, quindi comunque vorremmo precisione su questo campione. Però se per esempio invece lo utilizziamo in un contesto come il ragno o in contesti come il ragno di ghiaccio nella Doom Tower, allora a quel punto se ci interessa utilizzarlo solo come campione per brucio HP, potremo ignorare completamente la precisione e dedicare completamente le state dei nostri equipaggiamenti su altri parametri. Quindi questo è da tenere comunque in considerazione. Se invece per esempio lo utilizziamo in contesti come le fazioni o i dungeon, allora magari vogliamo anche la precisione per poter sfruttare la provocazione e lo stun. Infine, la sua aura incrementa la difesa di tutta la squadra in tutte le battaglie del 25%. Quindi è un campione interessante e utile. Adesso, come ho detto, vi sarebbe stato utile nella fazione per completarla, ormai ci sono riuscito e siccome di brucio HP ho già Iron Tix Limor, che forse non voglio dire che è il migliore, però è uno dei migliori perché ci garantisce il 100% di brucio HP, perché è su tre turni e lo assegna per tre turni. Quindi più ho altri campioni con brucio HP, quindi adesso non è una mia priorità. Quindi probabilmente anche lui, purtroppo, andrà nel mio volto. Ok, ho trovato tre leggendari, finora non mi posso lamentare, però purtroppo sono tre leggendari che non utilizzerò tantissimo. L'UTA e Ordin nulla di che, quindi andiamo avanti. Ok, Inferno al Baroness nulla di che, Orward e Bard, nulla di che. Ok, questi, andiamo avanti. Rector Drat. Rector Drat è praticamente un leggendario. Quando ho trovato Rector Drat ha completamente cambiato il mio account. Agli inizi del gioco sono stato fortunato, ho trovato Rector Drat dopo un paio di mesi che giocavo ed è stato in quasi tutti i miei team per almeno i primi otto mesi di gioco. Poi pian piano sono riuscito a inserire altri campioni e a fare a meno di lei. Andiamo velocemente a vederla, le sue abilità sono davvero utili in tutti i contesti del gioco. La sua A1 attacca un nemico a un 35% di piazzare, 50% di riduce attacco per due turni. Questa è la sua unica abilità che richiede precisione. Dipende da dove volete utilizzarla, potreste voler sacrificare questa abilità e non mettere precisione per niente su Rector Drat e quindi ovviamente sacrificherete il riduce attacco. Poi, man mano che andate avanti nel gioco e avete equipaggiamenti migliori, se riuscite a mettere un po' di precisione su Rector Drat è sicuramente utile perché piazzare un riduce attacco in alcuni contesti può essere utile. Io per esempio ho utilizzato Rector Drat per molti mesi nella mia squadra del clan boss, questo perché non avevo un team unkillable, quindi avevo bisogno di un healer e Rector Drat mi era utile sia come riduce attacco, anche se avevo un altro campione, avevo Sepulcher Sentinel come riduce attacco principalmente, però poteva essere un'utile integrazione. Mi dà la possibilità con Velo di riducere il danno subito e mi cura e resuscita i compagni. Andiamo a vedere quindi le sue altre abilità. La sua A2, che è molto molto forte, su 5 turni riducibili a 4, cura tutti gli alleati del 20% di HP di questo campione e quindi ovviamente volete avere tantissimi HP su questo campione. Forse HP e velocità sono le due stat su cui dovete investire di più su questo campione. Ovviamente velocità perché volete che lui cicli il più velocemente possibile le sue abilità, e HP perché incrementa al massimo la sua cura. Dopo aver curato, piazza Velo Perfetto su tutti i compagni per due turni, sui compagni che hanno il massimo degli HP. Se voi andate a incrementare del 20% dei suoi HP, gli HP dei vostri compagni, considerando che lui potrebbe avere tranquillamente 60-70.000 HP, molto probabilmente andrete a portarli al 100%. In più, ovviamente potete incrementare la sua cura di un ulteriore 20%, che non vuol dire che andate a 40, vuol dire che andate al 20% del 20%. Quindi vuol dire che andate al 24%. Se invece alcuni compagni non dovessero arrivare al 100% degli HP, al posto che Velo Perfetto andrebbe a piazzare un 15% di cura continua per un turno. Ma quasi sempre riesco a curare tutti al 100%, principalmente perché poi andiamo a combinare il tutto con la sua passiva, che vediamo adesso. La sua passiva cosa fa? Ogni volta che un alleato, sotto Velo o Velo Perfetto, ottiene un turno, quindi non Rector Trat, è leggermente diverso, per esempio, da Seal of the Drakes, che ogni volta che lei fa un turno cura tutti i compagni. Questa abilità invece si attiva ogni volta che un compagno sotto Velo o Velo Perfetto prende un turno. Quel compagno viene curato del 10% dei suoi HP, e in più incrementa la resistenza di tutti gli compagni su Velo o Velo Perfetto di 50%. Quindi ci aiuta ad aumentare la resistenza e cura tutti i compagni sotto Velo. Il che vuol dire che se i compagni sotto Velo vengono colpiti, oltre che subire meno danno perché sono sotto Velo, vengono curati ogni loro turno. Ovviamente se ci sono più Rector Drat nel team funzionerà solo una volta. Andiamo a vedere la sua A3, che è su 4 turni anche questa. Resuscita un solo alleato con 60% di HP, 60% della barra turno, e gli piazza Velo Perfetto per 3 turni. Quindi ovviamente per 3 turni poi gli garantirà di guadagnare un altro 10% di HP ogni volta che giocano un turno. Infine la sua Aura incrementa la resistenza di tutti gli alleati nella Doom Tower di 55. E infatti Rector Drat è molto comodo nella Doom Tower, soprattutto contro i boss, dove magari serve un po' più di resistenza perché volete evitare alcuni debuff. Mi viene in mente lo Scarab King, lo Scarab Beo, che piazza provocazione e vi può impedire di piazzare lo scudo sulla vostra squadra. Avere Rector Drat, che è quello che per esempio faccio io come leader, vi permette di avere più resistenza, sia dovuta alla sua Aura, sia dovuta alla sua passiva, e questo vi aiuta a prevenire che lo Scarab Beo vi metta a provocazione, quindi riuscite costantemente a mettervi lo scudo e a evitare i suoi contraattacchi. Quindi Rector Drat è davvero davvero un campione utile. Frostbringer. Sono sempre stupito dal fatto che questo campione con questo nome non metta congelamento. è stata buffata recentemente, quindi è un pochino migliorata, però nulla di che, quindi non ci perdo tempo. Ser Artimage è un campione nuovo, almeno recente. Lo avevo già, ma attualmente non lo uso, non ho in piano di utilizzarlo a breve. e non vado ad analizzare le sue abilità al momento. Andiamo avanti. Epico, al cuto ne ho, non so quanti. Ok, e credo che con questo abbiamo finito. Ok, ho trovato tre leggendari, di questi tre leggendari non me ne serviva davvero neanche uno, magari più avanti, però ho 11 slot liberi, quindi volendo apriamo altri 11 giusto perché così completiamo quindi eccole qui, 11 preso ole, ole vediamo un po' gli ultimi 11 cosa ci riservano prima apriamo uno un epico nulla di che e adesso ultimi 10 ovviamente saranno 10 blu e vabbè direi che per oggi possiamo concluderla qui dal punto di vista delle percentuali non ci possiamo lamentare siamo andati molto oltre le probabilità che effettivamente avevamo con su 75 85 gemme aperte tre leggendari considerando che la probabilità è l'1% ne avremmo avuto la probabilità di trovarne ancora meno di uno ma altre volte ho aperto 100-120 schegge e non ho trovato neanche un leggendario quindi in realtà sul breve periodo a volte potreste essere più o meno fortunati ma sul lungo periodo dovreste più o meno compensare ok per oggi è tutto mi raccomando se questo video vi è interessato lasciate un like iscrivetevi al canale e vi saluto e ci vediamo al prossimo video